E, Fabio, siete qui davanti alla sede della Crea con un momento di protesta civile, potremmo dire, perché in ogni caso i lavoratori sono in attesa di una soluzione. Beh, veniamo da tre anni di protesta civile, a dire il vero, rispetto a questa tematica della differenziata. Siamo ormai alla fase conclusiva, nel senso che il Consiglio Comunale ha fatto il suo atto di condivisione politica, quindi di passaggio del servizio differenziata alla società Crea. In appendice al loro piano industriale le organizzazioni sindacali hanno consegnato un accordo sulle assunzioni per completare il processo stesso. Ad oggi, però, ancora il primo step dei lavoratori non è sceso, in un momento in cui ovviamente sarebbe opportuno per la società Crea stessa averli, considerato che la differenziata è ferma e ci sono una serie di difficoltà sui rifiuti in città. L'iter, dopo la delibera del Consiglio, l'iter burocratico è scaduto, insomma, o ci sono ancora dei termini per cui bisogna aspettare qualche altro giorno. Dalle notizie che abbiamo siamo a conoscenza del fatto che subito dopo il Consiglio, con comodo ritardo, la parte amministrativa, il dirigente ha mandato gli atti ufficialmente alla società Crea, che da qualche giorno dovrebbe procedere all'assunzione dei lavoratori. Siamo qui per chiedere spiegazioni, come mai di questo ritardo, considerato che eravamo rimasti già a più di dieci giorni fa, si sarebbero dovute fare le dovute operazioni. Capisco un momento anche delicato, però è anche giusto dare una risposta a un processo che è stato condiviso, strutturato, dove tutti forse per la prima volta siamo riusciti a dare un contributo. Non è un progetto che è fatto di risorse, è fatto di personale, è fatto di possibilità di crescita soprattutto, ed è un'esigenza anche del cittadino avere una raccolta differenziata di qualità. Quindi stiamo dicendo, trovate subito la soluzione. Mettete in campo ciò che abbiamo sottoscritto e condiviso, in altre fasi non si riesce proprio perché non sempre si ha l'opportunità e la fortuna di avere tutti quegli alimenti che consentono di mettere in campo un piano aziendale in una società partecipata. Servono risorse, serve personale, serve la giusta idea progettuale, serve soprattutto la possibilità, le potenzialità di crescita, sia economica che di qualità del servizio e del personale che è impiegato. In questo caso c'è, non metterlo in campo, è solo un cumulo di ritardo che torna da nosi in un momento in cui la città necessita di un'organizzazione della raccolta dei rifiuti.